Allora ecco, ci siamo in salita Santa Maria della Sanità, ci troviamo in questi 5 vanni, sono circa 70 metri quadri, in uno stato di conservazione da ristrutturare. Partiamo dalla zona di ingresso, questa che vediamo è la porta di accesso e questa punta la zona di ingresso. Iniziamo dove abbiamo la prima camera, una camera bella grande, l'esposizione è in questo caso verso est, la zona è molto silenziosa, è molto tranquilla, il riscaldamento è autonomo e il palazzo ha il doppio ingresso. Abbiamo la cantina, ecco adesso ci riportiamo verso la zona giorno che abbiamo visto prima, questa appunto è la porta di accesso, andiamo verso la seconda camera, un'altra camera di dimensioni generose, le finestre sono tutte aperte e il rumore è proprio questo, non sente strade, non sente assolutamente nessun tipo di fastidio. Abbiamo anche un po' di verdi intorno a noi, poi abbiamo alla nostra sinistra il bagno, anche il bagno come vediamo è completamente da ristrutturare e qui abbiamo la cucina. Sopra di questo piano alto abbiamo una zona di ripostiglio, bella grande, molto comoda, questa è la vista, quindi ripercorrendo un attimo il nostro giro, qua adesso siamo in cucina, alla nostra destra abbiamo il bagno della prima delle due camere, ecco questo è immobile che avendo l'ingresso adiacente, questa è la prima delle due camere appunto, avendo l'ingresso adiacente a questa stanza bella ampia si può portare la cucina in questa zona, unire l'ingresso, così si ha una zona giorno grande con cucina e due camere da letto, questa è la seconda delle camere, questa è la zona giorno, questa è la porta, ci riportiamo verso la porta d'ingresso e appunto abbiamo anche la cantina e qua terminiamo il nostro giro.